Sono Giorgio Carpano, Channel Manager di LG Electronics, siamo qui per presentare un'iniziativa di Patrici che abbiamo avviato da settembre con Adeo Group, abbiamo organizzato questo evento con soddisfazione nostra e di Adeo oggi qui a Milano nella nostra showroom e organizzeremo un evento analogo la prossima settimana il 24 ottobre a Roma presso il Midas di Roma per far conoscere i nostri prodotti professionali, tutta la gamma dei nostri monitor professionali ai clienti di Adeo Group, è una gamma assolutamente specializzata che va oltre i prodotti LCD di prezzo una gamma che si sta specializzando sempre di più e per questo ha bisogno di interlocutori professionali specializzati nel mondo dell'audio e video, per questo abbiamo selezionato Adeo Group come distributore dei nostri prodotti professionali. Quello che apprezziamo è la presenza cardillare di Adeo sul territorio nazionale, quindi a differenza di altri distributori ha una presenza anche nel centro-sul e inoltre apprezziamo la specificità sul servizio dell'audio professionale che riteniamo che è una componente indispensabile per apprezzare la fascia alta del nostro catalogo.